Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, bene, bella festa, bella festa. Valerio, Valerio. Ma qual è il segretto per tanta longevità? La passione per la musica, la passione per la musica, poi siamo tutti amici, facciamo questo mestiere sempre con entusiasmo, con sacrificio, non è facile. Non siamo dei ragazzini di vent'anni, adesso fare in macchina 400-200 km è pesante, è pesante. Visto che i nuovi gruppi fanno un disco o due e poi si scioglgono, voi è una vita che... No, vabbè, ma oggi è più niente, l'Italia è finita, oggi è più un artista che dura un mese. Tutti reali. Come Newtrolls, come questi gruppi. Il problema è che quando andrete in menzione voi chi ci sarà? Ma non so, Fedez. C'è bello, 40 volte, quando arrivavamo, mi sembrava. No, ma sono...